Nella serata di ieri, giovedì 10 marzo, si è riunito il Consiglio Comunale della città di Tolentino per discutere e approvare la modifica del regolamento comunale sulle proposte di iniziativa popolare e del referendum. In pratica il Consiglio Comunale, su proposta del sindaco Giuseppe Pezzanesi, era stato chiamato ad approvare la modifica dell'attuale regolamento e ad indire il referendum secondo la nuova normativa comunale. Si è ritenuto idoneo apportare la modifica regolamentare anche in deroga allo Statuto, in quanto una legge speciale nazionale ha previsto espressamente la nuova procedura di fusione per incorporazione, rinviando alla normativa regionale per le modalità di espletamento della procedura referendaria. Nelle marche, sia la legge vigente che quella appena modificata ma non ancora pubblicata dall'Assemblea legislativa, prevedono che il referendum si svolga senza un quorum qualificato di partecipazione. Pertanto la proposta avanzata dall'amministrazione comunale di Tolentino non appare errata, proprio in virtù della rigida gerarchia delle fonti normative, prevista dall'ordinamento giuridico. Tuttavia, il Consiglio comunale ha preso atto di un'interpretazione diversa e si è fatto carico di verificare in maniera più approfondita una materia tanto complessa e delicata, quale quella del referendum ai fini della fusione. Pertanto il presidente del Consiglio comunale di Tolentino, Mauro Sclavi, ha aggiornato la seduta consigliare. Intanto, nel pomeriggio di ieri, il Consiglio comunale di Camporotondo di Fiastrone aveva deliberato in maniera unanime la modifica del proprio regolamento e l'indizione del referendum popolare a favore della fusione con il Comune di Tolentino.